Capitano, dobbiamo commentare ancora questa sconfitta con l'Aquila che ha un po' fermato il percorso di crescita della squadra nelle prime tre partite. Ottime prestazioni, buone prestazioni, poi con l'Aquila soprattutto nel secondo tempo qualcosa è mancato. Sì, anche se nel primo tempo comunque abbiamo fatto una buona partita, abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo creato diverse occasioni contro una squadra che comunque è dall'anno scorso che gioca insieme con alcuni innesti di categoria, quindi rimane rammarico per il risultato. Però insomma questo ci fa capire che la strada che dobbiamo fare noi ancora è lunga e abbiamo molte cose da mettere a posto sia dal punto di vista di squadra che dal punto di vista atletico. Noi stiamo lavorando per cercare di essere pronti il prima possibile a fare bene le partite quando ci sono la domenica. Dispiace, dispiace soprattutto per il risultato, dispiace perché c'era gente allo stadio, cose che in altre partite c'era un po' di distaccamento dalla squadra e dispiace soprattutto per questo. Noi ci tenevamo a fare bene e volevamo dare seguito anche a quella che era stata la vittoria fuori casa. Purtroppo non siamo riusciti e cercheremo di correggere dagli errori che abbiamo fatto domenica per le prossime partite. Si è chiamato a un super lavoro al centro capo anche perché ci sono tanti infortuni in quel reparto. Il cappò di Colombo non ci voleva, altri ragazzi non sono ancora al top, insomma lì in mezzo avete qualche difficoltà. Purtroppo sono inconvenienti del mestiere, della situazione perché quando si comincia un campionato e noi abbiamo cominciato un po' in ritardo, la preparazione la stiamo facendo mentre giochiamo. Quindi anche dal punto di vista fisico la situazione non può essere delle migliori. Siamo stati bravi penso fino a questo momento con la squadra, con l'impegno da parte di tutti a nascondere anche alcune difficoltà. Adesso abbiamo qualche problema, però ci sono aggiunti due nuovi giocatori che cominciano a stare con noi da un po' più di tempo quindi potremmo fare conto su di loro per le prossime partite. Tra i nuovi giocatori che sono arrivati c'è questo Randall di cui si dice un gran bene. Che idea ti sei fatta di questo ragazzo? È un ragazzo sicuramente con qualità che può darci una mano. È arrivato qui da, come ho detto prima, da poco quindi anche lui ha bisogno di un po' di ambientamento. Parla solamente inglese, noi mi sa che non parliamo neanche italiano, però a parte di scherzi qualche difficoltà la incontra sicuramente. Però è un ragazzo applicato che ha voglia di fare bene, quindi al più presto credo che potrà darci una mano. Da capitano insieme agli altri senatori come stai gestendo il discorso relativo ai giovani che sono un po' entrati nel mirino? Contro il Barletta, Capece, stavolta l'errore di Scognamillo è stato pesante. Questi ragazzi ovviamente devono crescere, però certi errori poi alla fine vanno a incidere sul risultato. È normale, però non vorrei che la situazione passasse l'idea che per un errore di un giocatore perdiamo noi. Invece, anche se c'è stato un errore, eravamo stati bravi a rimettere in piedi e poi paradossalmente abbiamo perso quando non abbiamo commesso più errori da parte dei giovani, quindi gli errori fanno parte della crescita dei giocatori. È normale che dopo quando è finito tutto si analizza l'errore e si cerca di far capire che non è la categoria, non è la situazione in cui si possono permettere di fare degli errori. Dio non essere bravi è a crescere magari più in fretta di quello che potrebbero fare in un'altra situazione. Comunque abbiamo sempre detto che siamo in una piazza importante in cui teniamo tutti a fare bene, a fare bene da subito e bisogna levar via il concetto di giovane o di vecchio. Chi va in campo deve fare quello che la tenatura chiede senza nessun problema, a prescindere dall'età. Tu hai una lunga esperienza, come giudichi questo inizio di campionato di Lega Pro? Ci sono tante sorprese, il Lecce ancora a zero punti, in testa Pisa e Punta d'Era, che idea ti sei fatto? È un campionato strano, abbastanza comunque equilibrato, in cui tutte le squadre giocano su qualunque campo per vincere. A volte ci riescono, a volte no. Quindi ogni partita è aperta. Bisogna essere bravi secondo me a giocare da squadra, nel senso che quando c'è da soffrire, soffrire tutti insieme e cercare di portare a casa dei risultati che si possono ottenere. Certo che ci sono delle squadre, magari in questo momento, come hai detto tu, che stanno soffrendo un po' più delle altre, però magari il discorso che abbiamo fatto noi di inizio campionato, di preparazione, di amalgama di squadra, magari vale anche per le altre squadre. Quindi è un po' presto per dare dei bilanci definitivi. Mi aspetto che quelle squadre forti che sulla carta sono state costruite per ottenere dei risultati importanti poi alla lunga possano venire fuori. La settimana scorsa abbiamo sentito Daniele Didonato che ci ha detto «Sono orgoglioso che la mia fascia di capitano sia passata a Pestrinne perché è un professionista serio ed è un ragazzo che in campo lotta fino all'ultimo secondo». Insomma, le parole che ha detto lui mi fanno piacere. Non sono sicuramente una persona che viveva per questo desiderio della fascia da capitano. Per anzianità me l'hanno un po' data e cerco di onorarla tutte le partite, ma l'avrei fatto comunque a prescindere. Il nostro lavoro è questo qui, attraverso l'impegno quotidiano. Le partite uno riesce a andare avanti, a cercare di fare il meglio per la propria squadra.